Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Sherlock, una bellissima trovata e devo dire veramente un bel gioco divertente, veloce e soprattutto di squadra investigativo. Parliamo di Sherlock a cura della MS Edizioni in Italia, che noi ringraziamo veramente per avercene fornito una copia, come vedete qui davanti a me il primo caso, la tomba dell'archeologo che uscirà nei negozi. Non so se anche ne dico, lei vi dico la verità, perché ho visto che si trovano in espositori, comunque tanto trovate sempre il link in descrizione per vedere di cosa si tratta o nel caso anche acquistarlo. E qui accanto ci hanno fornito una copia demo, che è quella che poi viene girata nelle fiere per far provare il gioco. Come riporta dietro nella confezione di base, la tomba dell'archeologo è un gioco investigativo, dai 10 anni in su, da 1 a 8 giocatori e la partita ha una durata complessiva media comunque di una sessantina di minuti. Quindi un'oretta. È un gioco molto interessante, è un gioco anche interattivo, mettiamola così perché poi dopo ve lo dirò, ed è un gioco piccolino tutto quanto racchiuso in questo set. E quindi davvero grazie a MS Edizioni per avercene fornito questa copia, omaggio per fare una recensione e speriamo che questo possa essere il primo di molti video che faremo in collaborazione con voi. Quindi il gioco è un investigativo, però è un gioco, come io sempre li chiamo ragazzi tra molte virgolette, che poi forse il termine è anche giusto, però ormai l'ho fatto mio personale, è un gioco legacy. Ovvero il classico gioco che una volta finito non sarà rigiocabile, come un escape room per farvi capire. Però comunque è un gioco di un costo complessivo di 7,90 euro, quindi non si arriva nemmeno agli 8 euro. Ed è bellino perché è un gioco da fare assolutamente in gruppo, ora vi faremo vedere bene o male come funziona, da fare assolutamente in gruppo, ma anche una volta finito il caso, sarà divertente proporlo in qualche serata agli amici, ad altri gruppi di amici e vedere come risolveranno il caso. Anche perché alla fine tramite il telefono, tramite un'app, vi verrà dato un punteggio e magari potete rapportarvi con gli altri gruppi che l'hanno portato avanti per vedere se siete stati più o meno bravi di loro. Comunque iniziamo con l'unboxing. Sherlock, la tomba dell'archeologo. Questo è il primo caso ufficiale che uscirà ed è il primo di tre casi che verranno proposti, poi sono sicuro magari che ne verranno pubblicati anche altri. E questa è la confezione della prima avventura, quello che vi ho detto ci hanno fornito, ma di cui ovviamente non vi farò vedere niente, perché essendo un gioco che una volta finito non può essere rigiocato dallo stesso gruppo, quindi il caso da una singola partita e via, ve la andrei a spolerare e rovinare. Comunque questa qui è la scatolina e la potete trovare direttamente a parte cliccate sul link in descrizione e dall'MS ed edizioni la trovate per un costo di 7,90€. Vedete, è una scatolina molto piccola, ridotta, come dimensione accanto alla mano, e ha un QR code che dovrete scansionare con l'applicazione del telefonino. Questo è il caso demo che ci hanno fornito e queste qui sono due carte che come vedete hanno dei QR code. Nella prima di qua è possibile vedere il regolamento, perché dentro la confezione del gioco sì, ci sono un po' di scritte le regole, però vi basterà scansionare col telefonino il QR code sopra e potete vedere il regolamento, le regole, un'introduzione al gioco, tra l'altro molto bellina, anche tradotta in italiano, con una chiamata alla polizia, veramente veramente interessante, e dalla parte di qua invece la parte finale, dove una volta che avrete finito il caso, dovrete scansionare il primo codice per far presente al gioco, insomma, che siete pronti a rivelare le carte per come deve essere la sequenza della giusta attivazione per risolvere il caso, e successivamente sotto vi dirà quanti punti avrete guadagnato a seconda delle carte che avrete messo in gioco. Le regole sono, ragazzi, semplicissime, ma devono essere così e Dio benedica gli sviluppatori di board game che fanno dei regolamenti veloci o anche giochi di carte, perché un gioco deve essere letto in regolamento in 5 minuti e pronto per essere giocato, perché, insomma, nessuno ha voglia di impazzire per un gioco da tavolo, è giusto anche che sia così. Quindi, allora, l'avventura demo ci dice di mettere in campo la carta con in fondo il numero 01, che sarà la carta di partenza, e in questo caso qui sarà la carta della persona uccisa, Julian Rota, che è la persona trovata uccisa. Come in tutti i giochi da tavolo, investigativi, gialli, noir e cose del genere, dobbiamo capire chi è stato a ucciderlo, il movente, l'arma del delitto, il luogo e cose varie. Quindi il gioco cosa ci dice? Tirate fuori la carta 01, mettetela sul tavolo, tutto il resto delle carte le mischiate e fate un mazzo a parte, questo qui è un mazzo, e sopra magari farete la pila degli scarti, e il gioco ci dice la prima regola è quella che ogni giocatore, in senso orario, perché vi ricordo è da 1 a 8 giocatori, da questo mazzo dovranno pescare 3 carte, sempre 3 carte. Quindi facciamo conto che io ho pescato queste 3, che vedete qua su in cima. L'unica regola del gioco è che i giocatori non si possono mostrare le carte fra di loro, nessuno, e non possono leggerle. L'unica cosa che possono rivelare è questa scritta, vedete, con la graffetta qua giù in fondo, come se fosse un piccolo ritaglio di un pezzo di foglio, questo lo possono leggere, quindi, che ne so, cellulare di Nuria, potrà essere detto tenendole in mano senza farle vedere, oppure le parti in grassetto e sottolineate sulle carte. Tutto il resto della carta non potrà essere letto, soltanto la parte finale e la parte sottolineata, nient'altro. Ora, il giocatore ha in mano sempre le sue 3 carte. All'inizio del turno ciascun giocatore potrà fare una cosa, potrà o prendere una delle carte e giocarla, metterla nel tavolo vicino al caso e quindi andrà a infittire di contenuti il caso, e a quel punto la carta sarà ovviamente visibile da tutti i giocatori, o altrimenti, invece di giocare una carta, potrà decidere se magari il caso sta andando avanti e i giocatori si rendono conto che le prove che hanno in campo e quelle che hanno in mano non coincidono, potrebbe dire, va bene, io scarto una carta, la mette girata nella pila degli scarti e subito dopo ne pesca un'altra per averne sempre 3 in mano. Ricordo che all'inizio del turno ciascun giocatore, ciascun investigatore, dovrà sempre avere 3 carte in mano. Il tavolo, mano dopo mano, turno dopo turno, inizierà a riempirsi. Sarà possibile dare la combinazione esatta dei fatti come sono accaduti, quindi la risoluzione del caso, quando nella pila degli scarti, questa qui che avete visto a destra qui sopra, ci saranno almeno 6 carte. Quindi il gioco dice appena avrete messo almeno 6 carte scartate nella pila degli scarti potrete dare la soluzione. Ovviamente il gioco non dice subito appena ci sono 6 carte, potete anche andare avanti. Insomma, quando vi sentite abbastanza sicuri della soluzione al caso, potrete dare la soluzione. E a quel punto, come detto inizialmente, andrete a scansonare il primo QR code che vi dirà la soluzione esatta, quindi vedete se ci avete azzeccato o no, e il secondo QR code che vi dirà a seconda delle carte che avete messo, prenderete più o meno punti, e a seconda delle carte che avete scartato, prenderete più o meno punti. Ragazzi, in conclusione, questo è Sherlock, un gioco tascabile, praticamente perché sì, un gioco molto veloce, un gioco interessante, un gioco per tutti gli amanti del giallo, del noir, dell'investigativo, di Cluedo, insomma di giochi del genere, ma soprattutto un gioco per chi, anche uno che non è tanto tanto del genere, no? Però lo vuole provare perché il costo è molto ridotto, si va, ve l'ho detto, a 7,90, buttaci 10 centesimi, se è fatto 8 euro, quindi comunque è una cifra molto bassa. Poi vi immaginate un gruppo d'amici, vai, ci si mette 2 euro a testa, si prova, lo proviamo a prendere. Alla fin fine è un gioco tascabile, veloce, e per fare una serata, non ha una rigiocabilità, perché una volta finito il caso, come qui vedete la tomba dell'archeologo, o il caso demo che vi ho mostrato, il gioco è finito e dovrete comprare un altro. Però magari sarà divertente anche per portarla a fare una serata, giocarci un'ora, un'oretta, un'oretta e mezzo, poi dipende sempre dalla velocità dei vari gruppi, e magari nella stessa serata farlo giocare ad un altro gruppo di amici, o familiari, insomma, parenti e quant'altro, e vedere come andranno avanti voi zitti magari lì accanto, ve la ridete un po' perché sapete dove stanno andando a prendere bene o magari a prendere male, a sbagliare. Quindi è un gioco assolutamente consigliato, il link lo trovate in descrizione per l'acquisto. Noi ancora una volta ringraziamo la MS Edizioni, ragazzi, grazie davvero di cuore per averci dato questa opportunità, speriamo che possa essere la prima di molte altre, insomma, speriamo di aver lavorato bene in questo video. E niente, ragazzi, è un gioco molto interessante che trovate in vendita, e quindi guardate il link in descrizione. Ripeto, da come l'hanno proposto, magari forse ho capito male io, però, visto che lo daranno con un espositore, sarà sicuramente venduto nei luoghi specializzati, tipo ludoteche, o magari anche negozi di giochi da tavolo, fumetti e altre cose, però non vorrei che oltre online si potesse trovare anche in edicola, questo non lo so. Comunque, tanto, nel link che trovate in descrizione c'è assolutamente scritto tutto. Ragazzi, se le devo dare un voto come idea, che il voto poi è complessivo, se è chiaro, perché complessità delle regole, gameplay, disegni, come si completano le carte, artwork, uno deve dare un voto complessivo, no? Se devo dare un voto a questo gioco, gli do un bel sette e mezzo su dieci, mi è piaciuto molto anche i disegni sulle carte, molto colorati, fatti bene, veramente, poi ovviamente Sherlock, però ambientato ai tempi nostri, ed è una bella idea, perché quel classico gioco che costa poco, è alla portata di tutti, cioè non deve sfuggire a nessuno, e può essere giocato praticamente da chiunque. Poi un gioco investigativo è anche bello, che ti hanno acceso il cervello, e secondo me sono anche giochi forse più cooperativi di tutti, alla fin fine, perché insomma ti devi anche consultare con gli amici e gli altri investigatori che hai accanto. Quindi ragazzi, un bel sette e mezzo su dieci, grazie alla MS Edizioni, e link in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!